Mascherine gratis a tutti i cittadini di Montevarchi, è iniziata la distribuzione e come funziona? Sì, è stata una distribuzione da parte del Comune di Montevarchi, grazie alla disponibilità di tante aziende che si sono messe a produrre e a donare queste mascherine al Comune di Montevarchi, abbiamo iniziato a distribuirle nei punti farmaceutici, nel CUP, in una frazione, e poi con un servizio porta a porta, soprattutto nelle realtà più piccole, quindi nelle frazioni del Comune e per quartieri. Quindi un modo per stare vicino alla cittadinanza, per fargli capire che in caso di estrema necessità, quindi per l'acquisto di genere alimentari o farmaci, è fondamentale uscire comunque con la mascherina. Ecco, una consegna anche a domicilio per evitare assembramenti nelle farmacie, ovviamente. Sì, assolutamente, naturalmente il Comune di Montevarchi è un Comune molto vasto, quindi non è pensabile fare un servizio porta a porta perché, insomma, comincia a diventare complicato. Però per le frazioni e per alcuni quartieri siamo riusciti ad organizzarci grazie a molti volontari, si sono resi disponibili, entusiasti dell'idea e quindi già da stamane abbiamo consegnato più di 5.000 mascherine. Naturalmente proseguiremo nei prossimi giorni fino a che non saremmo dato le mascherine a tutti i cittadini. Il cittadino viene col tesserino sanitario, naturalmente poi sta al senso di responsabilità del cittadino, cercare di prenderne il numero che gli spetta. Vengono date solo agli adulti perché i bambini naturalmente devono stare in casa, questi devono servire a un componente per la famiglia per volta, si dà bisogno di uscire per fare la spesa o comprare farmaci o per andare al lavoro, insomma, quindi deve essere strettamente necessaria ad un'esigenza.